Musica Amici di Alessandro TechWord, buonasera Oggi vi presento una configurazione guidata e le considerazioni finali riguardanti questa chiavetta con tecnologia AC1002 Parliamo della T4U, scopriamolo insieme Ok ragazzi, quindi adesso dobbiamo vedere come installare la T4U Quindi, prima di installarla dobbiamo scaricare i driver Ok, per scaricare i driver in quanto io non ho lettore cd Andiamo sul sito di TP-Link Qua nel campo di ricerca scrivete T4U, tutto attaccato, fate invio e vi si aprirà la pagina del prodotto Cioè il prodotto, cliccate e vi si aprirà questa pagina Dovete cliccare qui, alla voce download, vi si aprirà questo piccolo menu Cliccate su driver e vi si aprirà questa pagina Questi sono gli ultimi driver disponibili per la chiavesta in questione Io li ho già scaricati, come a molti di voi capiterà Chiaramente di non avere internet, quindi non potete farli scaricare direttamente dalla chiavetta i driver Perché ricordo che se avete la possibilità di mettere anche provvisoriamente un cavo ethernet La T4U scaricherà in automatico i driver Quindi andiamo a vedere, ora che non abbiamo internet, come installarli manualmente Una volta estratto il file abbiamo questa cartella E qui abbiamo diversi appunto file Abbiamo un sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e anche XP Come potete vedere abbiamo diversi bit Abbiamo il 32 bit e il 64 bit Per vedere a quanti bit è il processore Andate qui in computer, tasto destro proprietà E qui abbiamo le proprietà del computer Qua leggerete se è un 64 bit o un processore da 32 bit E di conseguenza anche poi il sistema operativo come potete vedere qua sopra Il mio è un 64 bit, quindi un Windows 7 Quindi andrò nella cartella dedicata Vediamo che abbiamo dei file che di sicuro non si possono installare così facilmente Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo innanzitutto a inserire la chiavetta E aspettiamo che viene letta Ecco chiaramente vedete che dice installazione driver dispositivo non riuscita Ci clicchiamo e nulla Quindi ci richiamo nel pannello di controllo Poi andiamo in hardware e suoni Qui scegliamo gestione dispositivi E qui vedete che abbiamo la nostra chiavetta Che di fatto non è stata riconosciuta Andiamo ancora e dobbiamo proprio dirli esattamente dove reperire il file Ecco qua il driver è stato riconosciuto E come potete vedere ora abbiamo la possibilità di collegarci alla rete wireless tranquillamente Colleghiamoci E facciamo vedere L'allineamento A quanto avviene Guardate l'allineamento 867 megabit Davvero molto molto performante Vi posso assicurare che Le latenze sono Davvero davvero minime Eccoci qua amici di Alessandro Tech War Dalle conclusioni finali di questa chiavetta T4U Di casa TP-Link Allora prima di parlarvi un attimino di specifiche E di come utilizzarla Dove utilizzarla Vi faccio vedere il packaging Ci sono una guida all'installazione rapida Tutta in inglese E questa è una delle motivazioni per la quale Ho deciso di fare una guida in italiano Questa è la guida Trovate della manualistica Un CD per i driver E un pratico cavetto USB 3.0 Che è davvero interessante Cosa vi permette di fare questo cavetto? Vi permette di collegare Questa parte al computer E dall'altra parte Abbiamo la chiavetta Collegata chiaramente A questo adattatore Se ce la faccio E in modo tale Che potete poi Chiaramente Spostarla in diverse posizioni Per aumentare magari La ricezione E per rendere La chiavetta più agevole E all'interno Lo trovate all'interno Del packaging Questa è la scatola E questa è la chiavetta Parliamo un attimino Di specifiche tecniche La chiavetta È una chiavetta 2,4 GHz E anche 5 GHz Quindi opera su due bande Non in simultanea Quindi o opera Prima in banda Da 2,4 GHz Oppure opera in banda Da 5 GHz Per quanto riguarda La velocità in megabit Raggiungibile Su banda da 2,4 GHz Abbiamo 300 Mbit Mentre invece Per quanto riguarda La banda da 5 GHz 867 Mbit Queste non sono velocità In full duplex Quindi dovete dividerle Per due In andata E in recensione Standard USB 3.0 Come potete vedere Anche dalla chiavetta Che ha il connettore blu La chiavetta Supporta Chiavi VPA VPA2 Ed è davvero Performante Supporta Per quanto riguarda La rete 2,4 GHz La banda BGN E per quanto riguarda La rete In AC La A E la N E la AC Andiamo un attimino A vedere la chiavetta Questa è l'estetica Della chiavetta Davvero bella E sulla parte destra Noterete un tastino Che non è altro Che un tastino Di VPS Serve per collegarla Al modem router In maniera davvero Facile Perché come funziona Andrete sul modem router A premere il tasto di VPS E successivamente Premerete il tasto di VPS Su questa Chiavetta Che ricordo Essere qui Vedete E sostanzialmente Avverrà il collegamento In maniera Automatica Facile E veloce E sicuramente Sicura Questa chiavetta La consiglio Innanzitutto È compatibile Con Windows 8 TP-Link Ha lasciato anche I driver Per Windows 8.1 È consigliabile A chi Non ha disponibilità Di collegare Il cavo Ethernet Ma ha esigenze Di navigazione Efficiente Quindi ha bisogno Di Delle certe Performance Perché per esempio Ha un NAS Oppure Per esempio Ha una rete Diciamo Molto disturbata E ha necessità Di collegarsi In maniera efficiente Senza troppi errori Su banda Da 5 GHz Ricordo Che a casa mia Ho raggiunto Velocità di allineamento Tra il modem E la chiavetta Di circa 850 Mbit Quando il mio nuovo Samsung Galaxy S6 Non arriva più Di 250 Quindi Un hardware Sicuramente Valido Performante È sicuramente Paragonabile Al prezzo Che Ho visto Su Amazon Non è per niente Non è per niente Elevato TP-Link Sul datasheet Fa Un'immagine Molto carina Che vi può rendere L'idea Di come Si può utilizzare La chiavetta Vedete Dalla banda 2,4 GHz Ci sono alcuni dispositivi Per la banda 5 GHz Altri dispositivi Mi sembra Ovvio Dover ricordare Che la chiavetta Non ha La banda Simultana Chiaramente Non va Sia 2,4 GHz Che a 5 Non ci sono Chiavette Che lo fanno In realtà Non è vero Ma Non ci sono E Sostanzialmente Quindi O va a 2,4 GHz O va a 5 GHz Se non avete Un model dual band Risulta sprecata Perché potete Suonare fino al massimo 300 Mbps E una chiavetta A 300 Mbps Ormai si trova Intorno alla decina Quindi Non andate ad acquistare Una chiavetta T4U Se chiaramente Non avete In programma Di espandere Il vostro Modem Router Con tecnologia AC Perché risulta Davvero Davvero Sprecato Per questo video Credo Di aver detto Tutto Vi do Magari qualche Modem Router TP-Link Sulla quale potete Sfruttarla Per esempio Abbiamo L'8980 Dove potete Sfruttarla Tutta la serie Hacker Compreso anche L'ultimo Hacker D9 O anche L'Hacker D2 O anche Addirittura L'Hacker D5 L'Hacker D7 E quindi Tutti quei modem Che supportano La tecnologia C Se avete un modem Becchio Non vi preoccupate Perché è completamente Compatibile Ma ripeto Andrà massimo A 300 Mbps Per questo video Credo di aver detto Tutto Vi ringrazio Vi ricordo Di iscrivervi Al canale E mettere Mi piace Al video Grazie E al prossimo video Ciao a tutti